Kao 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 manga ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Siamo ritornati ragazzi con un video dedicato a Popinabox, anzi gli ultimi acquisti fatti appunto su questo sito. Vi ricordo come sempre, io ve lo ricordo ma appunto ormai l'ho conoscita a memoria se mi seguite, il codice sconto il GIM20 che vi darà diritto appunto al 20% sul primo abbonamento in caso decidiate di fare l'abbonamento oppure il GIM10 che vi darà diritto al 10% sugli ordini singoli, quanti ne volete, cioè non potete farne uno oggi, uno domani, uno dopo domani, mettere nel canello 500 elementi e avrete appunto il 10% che onestamente non è poco contando che sul sito costano veramente poco 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 le Pop e dunque risparmiate un botto di soldi sia in un caso che nell'altro. Con questo video ragazzi inizierà una trilogia di video appunto dedicata alle Funko Vinyl, non le classiche Pop che vedete qua ma delle Pop particolari che sicuramente avrete già visto, io le ho amate alla follia, devo dire la verità che le ho scoperte soltanto ultimamente, cioè iniziando a collezionare le Funko Pop che non è da tanto che le colleziono, ho una bella collezione ma sarà tipo da penso un anno e mezzo che ho iniziato diciamo questa droga, solutivamente ho iniziato ad apprezzare le Vinyl, le Vinyl per chi non lo sapesse ragazzi sono un'altra forma di Pop, cioè sono sì caricaturali ma fatte diversamente e fatte splendidamente, dunque ho deciso di collezionarne parecchie, in questo video ne vedremo 4, cioè quelle che mi sono arrivate praticamente ieri, mentre nei prossimi due video vedremo le altre 4 e le altre 4 ancora, quando ovviamente mi arriveranno farò subitissimo un video. E partiamo ragazzi da una serie che ho stra-amato, ho sentito tutte quante le stagioni nei cofanetti speciali e ovviamente in edizione Blu-ray, e sto parlando di Game of Thrones. Ecco qua cos'è una Vinyl, sicuramente appunto se state collezionando Pop li avrete già viste, mamma che figata, cioè a me piacciono un casino, in questo caso ragazzi ho scelto il set Jon Snow e Daenerys Targaryen, cioè guardate che bella, mi piace un casino sia la confezione, che secondo me è pazzesca, che la grandezza, perché ragazzi sono un po' più grandi a mio avviso delle Pop classiche, ma in questo caso te ne mettono sempre due, il prezzo ufficiale diciamo è 16,90€, almeno su proprio una box, visto che da altre parti come ad esempio GameStop o altri siti, sparano dei prezzi folli tipo 30€, 25€, cioè siamo pazzi. Comunque ve le faccio vedere un po' più in dettaglio, perché sono straordinariamente belle, come potete vedere sono diverse, sia come corpo che come viso, mi piace, ripeto, un casino la confezione che è uguale alle Funko classiche, ma in questo caso è fatta diversamente, qua ce le fa vedere in tutto il suo splendore, e dunque ecco la prima. E passiamo ragazzi alla seconda, come ben saprete io adoro la serie, diciamo la saga, anzi di Star Wars, ovviamente possiedo tutti quanti Blu-ray anche in Ultra HD appunto della serie, dunque non potevo farmi scappare alcune vinyl appunto dedicate a questo, questa è soltanto la prima di una lunga serie che ho ordinato, dunque le altre le vedrete più avanti, e in questo caso abbiamo Chewbacca e C-3PO. Allora, cioè, cosa dire? Guardate, cioè, io non lo so, a me piacciono un bordello, cioè, guardate che roba, ripeto, sono fatte meravigliosamente, cioè, ad esempio Chewbacca come potete vedere ha l'arma in mano, classica confezione con dietro loro due in dettaglio. Il problema è che non so più dove metterle, cioè non ho più lo spazio materiale per ficcarcele, dove le metto? E ora ragazzi passiamo ad un altro film molto molto famoso, che sicuramente avrete già visto, sto parlando ovviamente di Deadpool 2. Diciamo che insieme ai Guardiani della Galassia, Deadpool è il mio film preferito, sono i miei film preferiti appunto di tutto quanto l'universo Marvel, proprio per la comicità che riescono a dare, l'ironia soprattutto cattiva in questo caso, che riesce a dare Deadpool, e ovviamente ragazzi non potevo perdermelo. Qua abbiamo il personaggio principale, cioè Deadpool, e il cattivo di turno, cioè Cable, percato che appunto ho la luce sparaflasciata, che non fa vedere i dettagli, ma sono fatte divinamente. Mi piace un casino anche la confezione, perché prosegue diciamo lo stile del film, e dietro come potete vedere abbiamo una bellissima immagine, non dei pulpazzetti, ma del fumetto originale, cioè dai. Ultima ma assolutamente non ultima, ho voluto prendere una vinila appunto dedicata a My Hero Academia, come potete vedere qua ne ho abbastanza di My Hero Academia, le sto collezionando le classiche pop appunto pian piano, ma appena visto questa me ne sono completamente innamorato. Cioè pronti? È bellissima secondo me. Abbiamo All Might e Midoriya, cioè ragazzi, ma quanto belle sono. Cioè non so come fanno certe persone a non apprezzarle, perché sono bellissime, anche proprio dalla scatola, ti innamori proprio dei colori della scatola, dei personaggi che sono straordinari, cioè guardate All Might. Ditemi voi se non fa un ridere bestia, cioè bellissima. Classica confezione che come ho detto riprende lo stile di My Hero Academia, dietro ce le fa vedere in tutto il loro splendore, guardate qua, e sono anche in rilievo, vedete questo pezzo qua è lucido rispetto all'opaco di qua, cioè dunque sono fatte veramente bene anche come confezioni. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video dedicato a Popina Box, soprattutto alle vinil. Aspettatevi il prossimo, perché anche in quello ci saranno veramente degli acquisti da pavura. Fatemi sapere ragazzi nei commenti, che sono molto curioso, se anche voi collezionate queste vinil, oppure semplicemente collezionate le classiche diciamo Pop. E che dire dunque, un pollice in su se vi è apprezzato, un commento lasciarlo qua sotto, e ci si becca con il prossimo video. Ciao ragazzi!